Ci si comporta, bisogna coprirsi abbastanza bene. Io poi, guardi, mi devo coprire ancora di più, perché è arrivato tutto insieme. Vabbè, comunque, ci si ripara abbastanza più pesantemente e quindi si va avanti lo stesso. Comunque deve arrivare il freddo, perché sennò qui è una grande confusione. È stato un risveglio glaciale per Arezzo, la provincia più fredda dell'intera Toscana. È stata, infatti, una notte polare per tutto il territorio provinciale aretino, che questa mattina si è svegliato con temperature ben sotto lo zero. Ma se la notte sei in casa, sotto le coperte, ma che senti? Io non sento niente. Ora si sta bene. Un po' di tretto, ci si copre. Chi si mette la papala, io no. La sciarpa, un paio di guanti e via. Ma ho visto anche stamani era sotto zero, anche di prima mattina. Non è che si sia alzata tanto. Anche un'ora fa segnava zero gradi, quindi non è che, diciamo, si sia alzata così tanto. C'è fortunatamente il sole. Poi andremo in casa al calduccio. Ad Ortignano, Raggiolo e a Palazzo del Pero addirittura si sono superati i meno 10 gradi. Temperature altrettanto rigide anche a Monterchi, Chiani e Mercatale di Cortona, dove le minime registrate sono state rispettivamente meno 9,3, meno 9,7 ed infine meno 8,2 gradi. Insomma, l'ondata di freddo polare, come annunciato nei giorni scorsi, non ha decisamente risparmiato la provincia di Arezzo, stretta nella morsa del gelo. Si copre un po' il mentino, si muove molto con i cani che si portano un po' al giro, si fanno correre, camminare un pochino e si supera. Siamo abituati a più freddi, no? Di una volta.